Il ristorante Cavalieri Vengono accerchiati e successivamente aggrediti con schiaffi in faccia e ripetuti calci e pugni all'autovettura da circa 25 persone con il volto coperto, cinghie in mano, costringendoli a fare retromarcia nel piazzale. A quel punto entravano all'interno del ristorante aggredendo i restanti calciatori, Aimo Diana, Marco Pisano, Francesco Pratali, Massimo Loviso, Matteo Rubin, Paolo Zanetti, Angelo Bonna, David Di Michele, con ulteriori schiaffi, minacce di morte, aggressioni a domicilio e spintoni, del tutto incuranti della presenza di mogli, fidanzate e, quanto di più grave, di quattro nostri figli, visibilmente sotto shock. Solo nel momento in cui si sono accorti della presenza di telecamere di sicurezza, hanno abbandonato il locale, continuando a minacciare i giocatori. Pertanto la squadra, nel suo complesso, sta valutando la possibilità di dare un segnale forte, per stigmatizzare l'accaduto e isolare questi pseudotifosi dalla reale tifoseria Granata. Grazie.